noi definiamo la tecnologia ibrida nativa ibrida le cose ibride non sono mai ottimali parto male nel dirlo perché le cose che stanno a metà tra una cosa e l'altra spesso non fanno bene né una cosa né nell'altra ma in realtà noi la definiamo ibrida perché di fatto utilizzando l'algoritmo di consenso di proof of play andiamo a risolvere uno dei problemi di ethereum 2 molto noti o quantomeno noti nel segmento dedicato a ethereum ovvero che il passaggio a proof of stake da una parte rende sicuramente tutto meraviglioso dall'altra c'è un problema di adozione di nodi cioè fondamentalmente non serve più minare perché chi ha lo stake riesce a dividersi un po' la parte per cui quella quella parte che stimolava la crescita dei nodi con la proof of stake tende a morire perché non c'è più questo interesse non c'è più mentre in bitcoin più si investe nella tecnologia più c'è la speranza di avere più mining rispetto a qualcun altro con la proof of stake si tende a creare una morte lenta di quello che è un po' il mondo della competizione dei nodi e quant'altro è ibrida perché noi abbiamo creato questo algoritmo che è sì un algoritmo di proof of stake ma c'è un mining virtuale crittografico che ti invita a partecipare al mining quindi se non se non mini non guadagni se mini guadagni però è un mining non energivolo è una sorta di appello poi lo vedremo successivamente dove se ci sei durante questo appello allora hai diritto alla parte che ti spetta di stake se durante l'appello non ci sei viene escluso dallo stake e quindi di conseguenza chi mette i nodi per costruire questa operazione tende a guadagnare dal fatto che qualcuno si tira indietro e quindi si crea matematicamente lo stesso effetto di creare i mining su proof of work questo è più o meno il programma di oggi vado molto veloce sulla prima parte perché avete una importante formazione ma è solo per diciamo mettere a terra delle mattonelle su cui tutti possiamo camminare con parole comuni e e quant'altro tutti voi sapete più o meno come funziona una soluzione centralizzata c'è un sistema serve un'applicazione database ci sono tanti client che insistono su questo server application chiaramente oggi si virtualizza quindi è solo concettuale l'aspetto il problema di una soluzione del genere è che nel caso ad esempio dell'autenticazione in cloud il processo che avviene per autenticare un utente in cloud è che l'utente fornisce le proprie credenziali e il server riconosce queste credenziali e ti lascia passare ma nulla vieta che se dentro il server ci fosse un bypass di queste credenziali anche o introdotto artificialmente quindi una backdoor e quant'altro e i dati e la sicurezza legata al dato la logica della sicurezza risiede dietro l'applicazione alla logica applicativa questo significa che se qualcosa va storto tecnicamente si crea una sorta di fenomeno che si chiama isolamento l'isolamento si capisce molto bene con l'esempio bancario all'interno di una banca io ho i miei soldi finti ma insomma ho i miei numeri che rappresentano il conto se la banca decide di chiudere il servizio per motivi di manutenzione per qualunque tipo di motivo io ottengo un isolamento per cui io ho i miei dati all'interno non posso fruire di miei dati perché chi gestisce il sistema centrale mi impedisce di fatto di fruirne quindi oggi si parla di web 3 cosa significa web 3 significa che i dati è giusto che vengano gestiti da qualcuno ma il non posso lasciare nell'accezione massima di web 3 che questo qualcuno sia il responsabile anche della fruizione di questi dati perché se un domani questo responsabile decide di chiudere cambiare servizio qualsiasi cosa tutto il mondo è fuori cioè immaginatevi un gmail un google che non lo farà ma non lo farà perché si spera che non ci siano le condizioni di farlo decide di chiudere gmail da domani c'è un isolamento da parte di chi ha fornito i dati a google non può più fruirne in una banca questa cosa è un pochino più sensibile ma è un concetto generale quindi perché la blockchain per tanti anni e tutt'oggi è al centro di discussioni e dibattiti non perché è l'ennesima tecnologia disruptive oggi c'è tanto di disruptive ma perché ci sono degli aspetti tecnologici ancora oggi che si cerca di risolvere con una challenge l'ho chiamata blockchain challenger e i tre punti fondamentali su cui oggi si investe per costruire una tecnologia di nuova generazione che possa risolvere il problema dell'isolamento ma immaginatevi anche tutto il contorno del concetto dell'isolamento sono quello di restituire all'utente la proprietà della sua identità digitale la creazione di un software unbreakable quello che viene chiamato gli unstoppable software cioè il fatto che un software come un virus possa vivere indipendentemente dal fatto che un'azienda possa tenere acceso spento un server nelle piccole startup è un fenomeno molto noto una piccola startup ti offre un bel servizio poi non paga la bolletta di amazon passatevi il termine banale e a un certo punto si ferma tutto tecnicamente la possibilità di costruire un software che vive indipendentemente dall'azienda che l'ha realizzato è una delle challenge a cui blockchain è chiamata a partecipare l'ultima che è più di cyber security che di carattere diciamo di racconto è impedire di fatto a chi gestisce i dati di alterarli a vantaggio proprio di altri quindi se oggi su torniamo sempre ad esempio di gmail se chi gestisce server di gmail alterasse la lista delle email cancellasse sarebbe la parola del povero client nei confronti di google dimostrare chi ha fatto cosa perché un bel giorno non mi trovo più le mail e posso denunciare google perché mi ha cancellato le mail google dice non te l'ho mai cancellate e nasce una diatriba diciamo da gigante no davide contro golia chi può dire che quei dati c'erano quindi di fatto nel sistema blockchain specialmente per i piccoli gruppi è molto importante che il piccolo gruppo la piccola azienda non si impadronisca dei dati e non li possa alterare nei confronti di terzi su questo portiamo una testimonianza molto importante noi abbiamo un exchange in produzione una delle cose più classiche che ci chiedono i nostri utenti è ma voi potete alterare i miei saldi voi potete entrare dentro e dire che io non ho più nulla cancellarmi l'account queste sono le oggi le banche possono farlo una banca oggi può cancellare un conto corrente e fa sparire i soldi poi magari ci sono delle conseguenze ma nessuno gli vieta di poterlo fare la tecnologia blockchain in realtà di fatto vieta questa operazione ma non la vieta perché c'è un impegno a non farlo ma perché è una tecnologia che porta un aspetto che altri in condizioni normali non considerano giusto un paio di false friend da chiarire questo è una cosa molto curiosa ma piace molto presentarla blockchain non è chiaramente sinonimo di criptovalute voi lo sapete benissimo però spesso vanno di pari passo perché la criptovaluta tende a usare una blockchain per poter promuovere se stesso però è un false friend la seconda è che la parola blockchain è una metonimia ovvero tutto l'ecosistema della blockchain fa uso di tante cose fra cui la catena dei blocchi per cui blockchain è un piccolo pezzo che però dà il nome a tutto a tutto il sistema in molti casi si utilizza il termine distribuito distributed ledger tecnologi quante volte l'abbiamo sentito quante volte l'abbiamo visto è un termine forviante perché i dati non sono distribuiti sono clonati quindi questo è un piccolo dettaglio perché distribuire significa che io oggi ho 10 monete le distribuisco tra di voi e do una a te una a te una a te questa è distribuzione se io invece faccio una copia dei miei documenti e la do ognuno di voi questa non è distribuzione rientra nei sistemi distribuiti ma è chiaramente un sistema di clonazione di dati e di da creare avere passatemi la la metafora più testimoni possibili che quei dati sono reali poi vabbè il termine minatore forviante molti dicono ma i soldi stanno dentro l'algoritmo li mino li li devo scavare il minatore un giocatore tutto sommato e quindi per correttezza siccome poi parleremo dell'algoritmo di proof of play in cui la parola play sapete che in inglese non significa soltanto giocare significa suonare significa essere attivi e quindi per noi un giocatore è un'azienda un utente un software un computer attivo quindi noi usiamo la parola minatori perché non ci possiamo reinventare un vocabolario di block chain è già difficile diffondere una tecnologia immaginatevi se diamo nuovi nomi diversi a cose diverse la utilizziamo minatore ma sappiamo nel cuore che è una parola forviante per noi è un giocatore ok velocemente sistemi distribuiti voi siete tutti tecnici per quale motivo si utilizzano sistemi distribuiti i motivi sono tanti sono per avere più performance più sicurezza più resilienza più continuità di servizio più scalabilità e i sistemi distribuiti in genere sono fatti da tanti nodi che più o meno poi a seconda del cap theorem ci sono vari tipi di architetture però più o meno un sistema distribuito possiamo vederlo come tanti nodi più o meno uguali dove dietro tendono a sincronizzarsi i dati e fuori fare una domanda ad un nodo piuttosto che un'altra spesso è la stessa identica cosa immaginatevi una cdn in cui che è un sistema distribuito io chiedo un'immagine alla cdn di singapore piuttosto che quella di roma posto che esista a roma l'immagine è la stessa poi dietro c'è stato un sistema che li ha che li ha sincronizzati quanti di voi conoscono il cap theorem l'hanno sentito parlare del cap theorem ok cap theorem è un bellissimo teorema tomo di che vi racconterò in pochissimi secondi e da che da prendere per vero a questa cosa ma non perché la dice luca ma perché è una delle cose più studiate al mondo come come dicono gli scienziati se non ci credete documentatevi non è possibile avere in un sistema distribuito contemporaneamente tre cose insieme la consistenza la disponibilità e la partizione di rete non è possibile averli tutte e tre contemporaneamente quindi se io ho un sistema di nodi in questo modo a seconda delle regole con cui io tendo a distribuire questi nodi io posso avere soltanto uno delle due l'intersezione delle due poi dei sistemi magici e alternativi si devono preoccupare del terzo ecco che un sistema il cap theorem appunto identifica questi questi macro insiemi e l'intersezione di questi due degli unici due possibili creano i sistemi ca cp e ap cosa significa un sistema ca è un sistema dove si garantisce consistente disponibilità ma se va via la rete salta tutto un sistema ap è un sistema in cui si garantisce anche la tolleranza di rete quindi se va via la rete continua bene o male a funzionare però non se ne garantisce la consistenza quindi potrebbe essere che due due server posti in luoghi diversi del pianeta abbiano dei dati più o meno uguali ma se va via la rete uno dei due comincia avere dati diversi perché non salta la sincronizzazione e quindi non si garantisce la consistenza cioè il fatto che in un nodo in un altro le informazioni siano le stesse immaginate un sistema bancario un sistema bancario se andasse via la sincronizzazione potrebbe darsi che in una filiale risulti un mio conto diverso più alto rispetto ad un'altra filiale perché magari ho fatto un pagamento l'altra filiale non lo sa e quindi questa consistenza non è garantita invece l'ultimo che è appunto il sistema cp classico è un sistema in cui non si garantisce la disponibilità cioè cosa significa significa che il dato rimane congelato all'interno dei vari sistemi finché non c'è la sicurezza che tutti lo hanno avuto per cui quello che poi spesso succede nel sistema bancario io faccio un pagamento nel questo pagamento questo saldo fin tanto che tutti i nodi delle banche non sono avvertiti di questo pagamento il dato non cambia quindi paradossalmente potrei fare un pagamento vedermi che il mio saldo non cambia perché si sta propagando l'informazione quando c'è un orchestratore centrale che ha capito che l'informazione è propagata allora in quel caso il dato viene viene reso consistente gli esempi di cap theorem vado molto veloce però essendo questo un limite come dire informatico ma teorico ma molto anche molto pratico considerate che nella maggior parte dei social network si rinuncia alla consistenza cosa significa si rinuncia la consistenza non che sono i sistemi sono impazziti ma se io mando un tweet negli stati uniti in un server degli stati uniti questo tweet viene subito pubblicato per gli utenti degli stati uniti magari qualcuno a singapore guarda mio profilo e quel profilo non ha ancora quel tweet non è grave dopo qualche secondo ci sarà quindi nei sistemi distribuiti dei social network spesso si tende a rinunciare alla consistenza cioè visitare facebook twitter dagli stati uniti potrebbe non essere la stessa cosa che visitarlo da un'altra parte accettabile quindi nel cap theorem si rinuncia alla consistenza in un in un contesto bancario si rinuncia si mettono i tempi di attesa cioè finché quindi si rinuncia alla disponibilità dell'informazione finché non è propagata io non ti do certezza che il tuo saldo è cambiato nei sistemi invece a partizione di rete tollerante si si cerca di lavorare molto bene sulla ridondanza dei dati esistono di database che lavorano molto bene in in modalità ca che fondamentalmente tentano di ricostruire i dati anche se se la rete non c'è oppure se la rete non non garantisce l'allineamento questo si ferma dove si colloca la maggior parte del block chain si collocano all'interno del sistema ap in cui la consistenza è demandata a un algoritmo di consenso questo è il motivo di questo dilungamento quindi il fatto che nelle block chain si parli di private pubbliche algorand e tirum e tirum 2 la differenza spesso diciamo da dall'interno la vediamo la differenza spesso è proprio come questi dati vengono sincronizzati quindi in alcuni contesti ha senso usare una tecnologia in altri ha meno senso di utilizzarla perché dipende molto dal sistema di sincronizzazione di questi dati perché bisogna sempre considerare siete ingegneri o comunque progettisti che quando si progetta si le i pronostici si fanno sul funziona tutto il lavoro si spende se nel piano bis e qualcosa non funziona ecco quando c'è un'architettura di tipo software distribuito in un mondo di lt bisogna sempre tenere in considerazione quali sono gli aspetti che possono inficiare sul sistema stesso non ho citato ma lo dico per coerenza e non passasse l'informazione che siamo carenti di dell'ultimo aspetto del cap theorem che è l'acid l'acid non rientra nel cap theorem lo dico l'acid è un particolare sistema di sincronizzazione che credo neanche l'ho messo nella presentazione perché però l'acid è un altro modello di sincronizzazione dove in realtà non si si esclude a tavolino i sistemi transazionali i sistemi transazionali ovvero che un'azione fatto su un account possa influire su un altro un sistema acid lo dovete vedere come un kv store dove ogni chiave ogni valore c'è la sua storia non sono diciamo il valore di uno non è influenzato dal valore dell'altro in quel caso il cap theorem salta perché si riesce a fare molto bene la sincronizzazione dei sistemi acid purché non siano appunto transazionali una nota a margine chiaramente la blockchain è una dlt ma una dlt non è la blockchain con distributed ledger technology è ormai diventata la parola molto molto blasonata siamo una piccola parte dei sistemi distribuiti si chiamano blockchain perché blockchain rappresenta proprio il metodo con cui si tendono a distribuire questi questi dati sull'identità digitale comincia esserci il primo nostro grande lavoro si chiama aria noi abbiamo costruito un'anagrafe digitale concorrente per certi aspetti si può dire all'anagrafe nota come comunale o italiana diciamo del paese perché abbiamo creato un'anagrafe un pochino più allargata rispetto all'anagrafe classica su aria c'è posto per gli umani ma c'è anche posto per i robot per i sistemi di intelligenza artificiale per i software quindi un'anagrafe un po più allargata e quando si parla di anagrafe bisogna tenere in considerazione un aspetto molto importante cos'è l'identità l'identità due passaggi la possibilità di riconoscere una persona su questo speed molto forte io riesco a riconoscere tramite speed che io sono io manualmente il secondo step è dimostrare che io volevo compiere quell'azione questa è già una cosa un pochino più complessa si comincia a parlare di sistemi di autenticazione attivi dispositivi molto spesso che è quello bancario cioè io io in quanto luca voglio spostare i miei fondi verso riccardo questo è un problema di identità digitale perché riconoscere effettivamente l'utente non significa poi tutto sommato raccogliere l'informazione e non ne avete un esempio tutti voi di fronte i vostri telefoni vi fanno un'autenticazione con l'iride con l'impronta digitale ma quel metodo ancora è borderline per usarlo come sistema dispositivo perché perché se volessi firmare una transazione usando l'iride io non ho nessuna garanzia che qualcuno non mi faccia così e firmo la transazione quindi questo è giusto usarlo nei suoi limiti come sistema di riconoscimento ma come sistema dispositivo il fatto stesso che posso prendere forzatamente il dito di una persona e appoggiarlo su un dispositivo non significa che lui è d'accordo con quello che sta in qualche modo firmando in tutto questo girepraio di problemi abbiamo costruito un'anagrafe dove da una parte ospita come dicevo umani e sistemi robot dispositivi IoT tutti sensibili con la possibilità di essere dispositivi quindi di poter firmare in maniera lucida tutta una serie di passaggi cito solo come come a memoria storica abbiamo fatto un esperimento in cui un lampione ha partecipato alla riunione di condominio in cui si decideva il condominio decideva una nuovo orario a cui il lampione doveva accendersi il lampione era connesso al sistema ha recepito i voti dei condomini ha riconosciuto che i condomini facevano chi ha votato faceva parte di quel pool condominiale tanto da auto riprogrammarsi con un rario nuovo questo è un esempio di interazione uomo macchina che si riesce a fare non solo con la tecnologia blockchain ma con uno strato di identità digitale che da una parte impone il riconoscimento di qualcuno e la possibilità di essere dispositiva però in italia ma anche in molte parti d'europa questa cosa a mio avviso a mio avviso è mal recepita e questo mal recepito la risposta la trova nella self sovereign identity cioè cosa significa identità sovrana se voi oggi fate speed c'è qualcuno che vi da speed se voi oggi prendete una carta nazionale di servizi c'è qualcuno che vi dà una carta di identità sovrana è diversa l'identità sovrana vuol dire che siete voi ad avere un'identità non c'è qualcuno che vi deve dare l'identità perché se qualcuno mi dà una password generata randomicamente quanto vi pare ma voi nel momento in cui ricevete la password non avete la certezza che qualcuno non abbia quella password lì per cui di conseguenza se qualcuno vi dà un documento ho scritto questo è il pin ce l'hai solo tu però se firmi una cosa sbagliata va in galera che garanzia avete che quel pin ce l'avete solo voi e che c'è qualcuno che può usare quel pin a svantaggio di qualcuno questi sono ancora problemi che magari voi o tanti altri non si pongono perché si ha fiducia nella tecnologia si ha fiducia negli aspetti degli ecosistemi tecnologici in generale ma l'identità sovrana è qualcosa di diverso è qualcosa che deve partire da me non da qualcuno che mi dà un pin quindi ecco che nasce il sistema di autenticazione con firma che ha un processo un po diverso quanti di voi sanno come funzionano sistemi di firma digitale come quali sono gli aspetti ci passo velocemente parte dell'anagrafe che noi abbiamo costruito chiaramente l'anagrafe in blockchain con la possibilità di utilizzare la chiave privata da parte di un oggetto o addirittura i moduli tpm che sono questi chip che vengono appunto installati all'interno di alcuni device diciamo i computer moderni ormai ce l'hanno tutti windows 11 dice che non si installa non è vero se non ha il modulo tpm a bordo la caratteristica del modulo tpm è che non c'è una chiave privata salvata in una zona di memoria non leggibile e che c'è un sistema deterministico che è incomprensibile anche a chi lo smonta che grazie a quale si crea una coppia di chiavi pubbliche private quindi la la rimozione di questo dispositivo di fatto rende vano l'utilizzo di quel tipo di dispositivo quindi noi grazie ai moduli tpm facciamo firmare i robot facciamo firmare i dispositivi iot in generale grazie a una serie di architetture come i solace account e gli smart contract facciamo firmare le dao e le singole persone tramite un componente che su aria poi vi lascerò in fondo la descrizione è un componente che a differenza di metamask a me non piace parlare di differenze però in questo caso è doveroso differenza di metamask che è la classica classico wallet manager di ethereum non si non si deve installare nulla sul proprio device dispositivo perché abbiamo riscritto tutta la tecnologia in javascript per cui tutta la parte di curvellittica tutta la parte di crittografia è tutta scritta in in javascript per cui si riesce a far fruire di queste informazioni gli utenti poi vedremo un esempio dopo senza che poi l'utente di fatto debba installarsi qualche cosa sulle curve vado velocissimo tanto ci siete tutti solo per per citare che la tecnologia trinci utilizza tutti i sistemi di firma possibile chiaramente lo standard nostro è la curva ellittica p384 e quindi tutti i sono derivati dallo shy e quant'altro però nulla vieta che qualcuno possa anche utilizzare sistemi di firme diverse perché il nodo siccome si utilizza multi hash come tecnologia i primi byte dell'hash vanno a codificare che tipo di firma viene costruita quindi non è difficile far cooperare rsa e dch per poter firmare diciamo cdsa per poter far firmare con tecnologie diverse a parità di block chain a parità di tecnologie di smart contract la parte dell'identità digitale ha risolto una delle possibili challenge la seconda è quella di creare un software unbreakable quindi questo virus che non dipende più dall'azienda che ha messo in campo un server con determinate tecnologie per fare questo serve qualcosa di modulare che era quello che poi noi cercavamo molto simile polkadot ha fatto delle scelte molto simili a noi non abbiamo copiato polkadot ci siamo trovati su un binario come dire due andavano nella stessa direzione per avere un software unbreakable significa un po vedere come hanno fatto i giganti e per noi giganti sono i precursori della block chain ovvero il mondo p2p avendo ovvero nutella napster sistemi torrent questi sono sistemi unbreakable oggi non si può fermare torrent perché non c'è torrent cioè la cosa buffa è questa non puoi fermare qualcosa che non esiste oggi esiste un protocollo esiste un sistema per cui tanti nodi condividono dati per cui dall'alto il grande fratello potrebbe guardare e avere un'idea di cos'è torrent ma in realtà i dati sono sparsi insignificanti nei compiti delle persone e tramite algoritmi si riconducono per avere un file centrale questo è un esempio di come si crea un software unbreakable un software che nonostante violi la legge non la violiamo comunque cerchiamo di non violarla nonostante sia un sistema nato e cresciuto in un ambiente agnostico nei confronti delle leggi internazionali non c'è modo di fermarlo e di spengerlo quindi si trae ispirazione da lì per creare qualcosa di unstoppable se poi uno lo utilizza per cose buone ha visto mai che non ha fatto una cosa decente quindi il sistema come funziona nel nostro caso ci sono dei nodi i nostri nodi sono autoreplicanti quindi significa che basta conoscere un fratello tra virgolette e un nodo vergine si attacca al fratello tramite cademlia e comincia a ereditare le configurazioni della della rete e da lì poi diventa un nuovo una nuova un nuovo seme per produrre di nuovo la sua autoreplica nei confronti di qualcun altro questo la blockchain quindi nel caso trinci in particolare può essere vista come vediamo se c'è il pezzo tanto vi salto la proof of work vi salto tutto giusto due cose magari torniamo sulla ecco qua questo più o meno è come fatta trinci trinci è una serie di moduli abbiamo il core che è il responsabile della della tecnologia proprio quindi quello che elabora le transazioni le esegue le fa funzionare che però è una libreria nel nostro caso poi abbiamo il nodo che è il vero e proprio applicativo che fa uso della libreria se andate su github trovate 50.000 riga di codici nella libreria e 20 riga nell'applicativo per dire però il concetto è che il core non si preoccupa di far funzionare la rete modello virus ma si preoccupa di far funzionare le transazioni il nodo invece quello che si preoccupa di cercare fratelli comuni nella rete sincronizzarsi e fare tutto il resto poi abbiamo un database di nostra concezione abbiamo dovuto scriverci ahimè un database che è un database molto particolare poi lo vediamo rapidamente a nostro avviso è molto semplice da usare però ha delle caratteristiche molto molto native è un kv store e per chi conosce kv store è un kv store tridimensionale quindi ci sono vari livelli in cui si può si può lavorare sul kv store e come alcuni conoscono i tradis per esempio c'ha chiavi stringa e valori di qualunque natura di bytes nel nostro caso sia le chiavi che i valori sono bytes array bat array quindi non c'è una codifica ben precisa dopodiché abbiamo un'interfaccia di rete dove questa interfaccia di rete si preoccupa autonomamente di fare network discovery cercare gli altri nodi e quant'altro e poi abbiamo una libreria in javascript che è la t2lib che permette tramite un'interfaccia rest di poter costruire far costruire agli utenti le transazioni e poterle sottomettere all'interno della rete questo è per farvi capire come funziona qual è l'anatomia di questa di questa tecnologia questo è il nostro mitico trinci di b lo chiamiamo mitico perché è tridimensionale ho fatto un grande sforzo anche questi giorni per portarlo in bidimensioni ma credo che sia meglio così cioè forse è un po' più comprensibile immaginatevi un database chiaramente io ve lo racconto a livello filosofico tecnicamente funziona in maniera completamente diversa però come quando uno si immagina Excel, Excel ve lo immaginate righe e colonne poi che sotto non sono righe e colonne questo è un aspetto tecnologico però a livello visivo il database è un cross database quindi ha un'interfaccia a 90 gradi su l'incrocio tra i due piani sono la lista degli account che stanno all'interno della blockchain gli account nel caso nostro sono chiavi pubbliche in realtà c'è un algoritmo di compressione della chiave pubblica però concettualmente sono chiavi pubbliche della curva P384 di qualunque curva essa sia la password di questi account è appunto la chiave privata diciamo dell'account stesso poi vedete alcuni account che hanno un cancelletto questi account con il cancelletto sono i soulless account questa è una cosa molto importante perché se è vero che gli account sono chiavi pubbliche in particolare in base 58 è uno SHA in base 58 di una chiave pubblica voi uno SHA lo potete riconoscere uno SHA ha una certa sequenza di caratteri cioè non è possibile che in uno SHA in base 58 ci sia il carattere cancelletto non è possibile perché non fa parte della codifica dell'esportazione di quel tipo di carattere quando voi vedete all'interno della tecnologia trinci dei wallet che iniziano per cancelletto si dimostra a tavolino che non ci può essere nessuna chiave privata per gestire quel wallet lì perché sarebbe in un universo diverso da questo perché non posso esportare in base 58 una chiave pubblica e ottenere un carattere cancelletto è impossibile quindi il fatto che quell'account non abbia un proprietario è una garanzia enorme per il funzionamento della tecnologia perché paradossalmente se io invio dei fondi a account 1 e quest'account 1 dovesse essere uno SHA è possibile che ci sia qualcuno che abbia la chiave privata di quell'account e che lo possa utilizzare per spostare dei fondi se io invio dei fondi a cancelletto EURS che è uno dei nostri stable coin si dimostra a tavolino che non c'è nessun proprietario dietro non c'è qualcuno che con una chiave privata può ottenere tramite SHA la chiave cancelletto EURS quindi di fatto quel wallet si può muovere soltanto con uno smart contract e le regole che gestiscono quel wallet lì sono regole di tipo smart contract questo è una delle importanti differenze rispetto ad altre tecnologie dopodiché si inizia un gioco tipo quello degli scacchi chi muove a destra chi muove a sinistra ogni wallet prendiamo EURS per esempio può avere opzionalmente uno un soltanto smart contract e quando ce l'ha ce l'ha per tutta la vita quindi non è possibile che il wallet EURS oggi abbia uno smart contract domani ne abbia un altro è possibile che non ce l'abbia ma quando ce l'ha è quello quindi vediamo degli account per esempio che non hanno smart contract e poi vediamo degli account che hanno degli smart contract c'è subito un esempio tra EURS e COIN1 che hanno lo stesso smart contract perché nel nostro caso gli smart contract vanno visti come classi non come applicativi quindi io posso creare una classe e istanziarla su più wallet quindi a livello di performance questo è molto efficiente perché io posso creare uno smart contract di escrow come quello che noi per esempio facciamo quotidianamente e non è che per ogni wallet di escrow io devo caricare un nuovo smart contract è lo stesso quindi c'è un hash che mi identifica quello che è lo smart contract che governa quell'account e di conseguenza è normalissimo che io ho più wallet che hanno lo stesso smart contract però questo database perché è particolare? perché crea degli isolamenti nativi ovvero il fatto che EURS e COIN1 abbiano lo stesso smart contract non significa che i dati di EURS possano essere letti, gestiti e manipolati da COIN1 c'è un isolamento tecnico all'interno del sistema cominciamo con la prima regola degli scacchi lo smart contract scrive in verticale quindi questo è un primo KV store dove voi vedete nelle colonne EURS, my token, account 1 bene virtualmente se esistono queste colonne esistono anche le stesse righe delle colonne questo è una matrice quadrata quindi lo smart contract EURS scrive in verticale cioè io posso scrivere all'interno della casella a sinistra delle informazioni quindi l'applicativo poi vedremo ha delle host function delle librerie per scrivere io posso scrivere nel wallet si dice fisicamente di tutti questi soggetti qui quindi EURS può scrivere nel wallet di account 3 può scrivere nel wallet di account 2 poi vedremo cosa ci scrive però può scrivere inoltre EURS può scrivere in un altro KV store che è quell'incrocio dei piani che vi dicevo che io ve l'ho ribaltato ma a livello tecnologico in realtà è è orizzontale ogni smart contract insieme all'account ha un proprio KV store di dati quindi EURS può scrivere sicuramente in verticale su tutti gli account ma può scrivere anche in un suo KV store che è completamente diverso da coin 1 nonostante abbiano lo stesso database quindi i dati che ha scritto EURS dentro il proprio spazio non sono visibili o leggibili da coin 1 che ha scritto di qua ora invece vediamo gli account gli account leggono in orizzontale quindi account 3 scusate può leggere in orizzontale cosa significa questo? Significa che account 3 può a livello nativo capire tutte le balance che ha di tutti i token che esistono all'interno di quella tecnologia quindi in particolare account 2 in maniera nativa con una chiamata sola sa che ha 0 EURS 100 my token nessun account 1 nessun account 2 nessun account 3 e 200 coin 1 quindi la lettura avviene in orizzontale la scrittura da parte dello smart contract avviene in verticale questa ci si mette un po' a prenderci confidenza ma questa sofisticazione in realtà va in linea con con quello che spesso nell'informatica si definisce convention over configuration cioè invece di mettere tutta una serie di regole di codice if then else si creano delle configuration over convention quindi a volte la forma delle variabili dà un'informazione aggiuntiva su che cos'è la variabile spesso le best practices dicono le classi scrivetele con la C maiuscola questa è configuration over convention non perché la tecnologia non permetta di scrivere classi con la C minuscola ma se vedo C maiuscola capisco che è una classe ecco questa tecnica si utilizza anche dentro per cui questa lettura in orizzontale in verticale poi vi faccio vedere che riesce in qualche modo a essere molto efficiente in tutte le operazioni che noi facciamo questo è il core parliamo un secondo del core fino a qui avete qualche domanda vogliamo se non c'è la generazione che ha dubbio che è privata quando c'è l'account quello con il cancelletto come generiamo unicamente il suo indirizzo ottimo c'è una una regola implicita la regola implicita è che quando io faccio una transazione poi la vediamo nella forma delle transazioni c'è un campo opzionale che è l'hash dello smart contract quindi io mando una transazione a un account che non esiste ah scusate mi sono dimenticato la cosa più importante di tutta la tecnologia tutti gli account già esistono nella tecnologia chiaramente è un concetto non è vero che dentro il database c'è tutti i record di tutte le possibili chiavi pubbliche e private però in questo momento si può dire che i vostri wallet già esistono dovete solo scoprire quali sono generando una coppia di chiavi tecnicamente quando io dico che un account esiste non significa che c'è la riga ma che se una riga non c'è l'account esiste non ha nessuno smart contract e ha tutte le balance a zero ok questo però mi aiuta sul fatto che se è vero che esiste nonostante non ci sia io già lo posso interrogare già lo posso utilizzare quindi io posso utilizzare l'account come ti chiami? cancelletto Diego pur non esistendo pur non esistendo e gli posso mandare una transazione cosa succede a cancelletto Diego quando gli mando una transazione? che lui esiste temporaneamente e se questa transazione contiene un hash dello smart contract significa che il cancelletto Diego temporaneamente dovrebbe avere quello smart contract quindi temporaneamente il core lo carica sul cancelletto Diego e se poi lo smart contract deve fare un salvataggio a quel punto il core ha una sola scelta rendere persistente questa operazione ecco come nascono wallet cioè un wallet io gli chiedo una balance questo wallet non esisterà mai perché non c'è bisogno per il core di far persistere il fatto che io ti ho chiesto una balance ma se io ti dico salvi sull'account Diego 5 bene allora è il momento che esista quindi esistendo marchia anche lo smart contract in maniera indelebile per cui io posso creare l'wallet cancelletto Diego inviandogli l'hash di uno smart contract che ho dovuto prima caricare e da quel momento in poi quello diventa un wallet a tutti gli effetti presente nella nella lista dei wallet reali e da lì in poi funziona con rapidamente un cenno alla tecnologia tutto il core e il nodo diciamo è scritto in Rust Rust è un linguaggio un linguaggio stile amato e odiato dalla comunità e io faccio parte della comunità cioè di quelli che lo amano lo odiano però a tutti gli effetti la tecnologia Rust per noi è stata una scelta d'obbligo perché prima di costruire una tecnologia nuova abbiamo messo sul banco di prova una serie di linguaggi di programmazione abbiamo creato dei prototipi molto veloci per portare poi a capire dove si voleva arrivare noi volevamo avere come standard di avere minimo mille transazioni per secondo quindi abbiamo fatto delle prove con vari linguaggi Go C Sharp Java anche Javascript perché no miseramente fallito come operazione per raggiungere le mille transazioni al secondo Rust ha dato una risposta impressionante impressionante dal punto di vista di performance quindi questa questa risposta ci ha costretto poi a tutti gli effetti a approfondire questo linguaggio tanto da farlo diventare un po' il prodotto principale non è difficile scrivere il Rust per chi non lo conosce mi piace definirlo si scrive molto simile a Javascript c'ha Let però poi c'ha una gestione della memoria che è folle e quando uno ci sbatte un po' o la supera o l'abbandona perché mentre chi viene dal mondo del C nel C si deve liberare la memoria in Rust la gestione di liberare la memoria non è a carico dello sviluppatore ma è a carico di come si scrive l'applicativo cioè non c'è una garbage collection c'è un concetto di ownership cioè la variabile è di qualcuno e quando il sistema si rende conto che non è più di nessuno la butta via ma non è una garbage collection quindi vi potete trovare se qualcuno ha tempo perso se già non lo fa vi trovate a scrivere nel Rust se voi scrivete faccio un esempio let a uguale ciao e poi stampate due volte la variabile a la seconda volta si rompe il programma perché la variabile è stata data in prestito alla prima funzione che l'ha stampata quindi si è perso l'ownership di questa variabile e la seconda dice io non conosco A nonostante le scrittatori che sono però al di là di queste difficoltà che come la tecnologia ci insegna sono difficoltà che si superano per il resto ha dato insomma delle risposte straordinarie questo non significa che per usare Trinci bisogna conoscere Rust perché Trinci funziona gli smart contact in Trinci si scrivono in WebAssembly che lì nessuno scrive in WebAssembly ieri qualcuno mi ha detto che conosco un amico che scrive in WebAssembly binario ma comunque ci sta ci sta non si scrive direttamente in WebAssembly a meno che non c'ha bene niente da fare si scrive in altri linguaggi più alto livello da AssemblyScript che è una versione di TypeScript per WebAssembly si scrive in Rust in C in Go si scrive in tutti i linguaggi e poi si compila in WebAssembly questo per noi è stata una scelta fondamentale perché non ci siamo dovuti inventare un linguaggio di programmazione e inoltre la nostra tecnologia ha una roadmap molto visionaria e ve lo prometto qui come lo prometto a tutti ce la faremo quello di uscire dai nodi e creare un'unica blockchain su browser senza bisogno di avere dei nodi sotto noi siamo all'80% di questo di questo passaggio e l'UASM oggi rappresenta per noi l'unico ponte che ci può essere tra il back-end e il front-end perché l'UASM per chi non lo sa è l'esperanto che tanti linguaggi di programmazione hanno provato a fare negli anni ci ha provato Microsoft ci ha provato Flash ci ha provato Java ovvero creare un applicativo che potesse funzionare su browser WebAssembly lo fa WebAssembly è un binario un eseguibile che può funzionare all'interno di un comune browser come all'interno di un back-end detto questo gli smart contact per noi si scrivono in UASM c'è dell'SDK ci sono gli SDK per C per ora uscirà quello per Java per Go e Rust mi sembra e AssemblyScript tutto su GitHub comunque lo trovate come funziona UASM UASM proprio perché è un esperanto se voi andate su internet a googlare come dicono quelli bravi come si scrive UASM alla fine si scrive per esempio nel caso di AssemblyScript si scrive similmente a TypeScript c'hai dei tipi strani c'hai U8 U64 se non configurate bene l'IDE vi dice che non conosce questi tipi sono i tipi nativi però con un po' di fine tuning si fa il problema è che gli esempi che vi fanno nel corso base diciamo le getting started di AssemblyScript sono esempi numerici cioè sono esempi vi create non la funzione hello world e poi c'è un print line hello world ci sono subito funzioni numeriche cioè dati due numeri sommali e tornami la somma trovati solo questi esempi qui quando poi cominciate a dire va bene allora voglio cominciare a passare al mio oggetto UASM non solo numeri ma anche stringhe lì la documentazione si ferma si ferma per un motivo semplice ci abbiamo messo un po' a capirlo però magari qualcuno più sveglio lo capisce prima è perché non si può fare non è previsto in WebAssembly che si trattino cose diverse dagli interi quindi paradossalmente sembrerebbe un linguaggio inutile un linguaggio per fare le calcolatrici in realtà la scelta è stata molto intelligente perché oggi esiste il modo per utilizzare i numeri per portare dentro strutture anche complesse uno di questi è MessagePack per esempio Protobuffer quindi la possibilità di scrivere un dato lo serializzo in bytearray quindi una serie di numeri e uso Wasm per portare dentro i dati all'interno del Wasm questo capito questo vediamo come funziona banalmente la parte dell'utilizzo della Wasm questo è su Trinci ma in realtà su qualunque progetto Wasm andrebbe usata in questo modo poi vi scrivete un applicativo immaginatevi il classico Hello World poi questo applicativo viene messo in una Wasm machine chiaramente quindi in un ambiente sicuro dove se crescia l'Wasm crescia dove in un ambiente sicuro non può rompere un applicativo se il Wasm si rompe se avete visto qualche giorno fa la NASA ha pubblicato una sorta di viewer per guardare l'atterraggio ci siamo andati noi c'era subito un errore di Wasm memory fault è un errore che noi conosciamo benissimo su come come mai succede un errore del genere però non ci abbiamo non è tempo intanto nessuno ci risponde dalla NASA a dirgli guardate questa cosa si risolve in questo modo però Wasm appunto ha delle caratteristiche abbastanza rigide ne parlo velocemente perché poi negli smart contract in realtà queste caratteristiche ci sono quindi voi scrivete l'applicativo dichiarate una serie di funzioni compilate la macchina compilate l'Wasm e poi viene caricato all'interno del core tramite una transazione tutto ciò che avviene all'interno della blockchain sono solo transazioni non possiamo fare diversamente o chiamate rest di lettura però quindi io faccio una transazione mando su un Wasm nuovo questo Wasm viene digerito viene messo in una posizione e l'ash di questo Wasm diventa l'indirizzo del Wasm stesso facciamo un uso smodato noi di hash all'interno della tecnologia l'Wasm però ti offre una caratteristica molto intelligente ovvero la possibilità di iniettare a caldo delle funzioni loro lo chiamano host functions quindi dentro Wasm si possono dichiarare delle funzioni che ci saranno quindi io quando compilo non le uso però dico qualcuno poi le metterà a caldo questa cosa è abbastanza strana nel mondo compilato però si può fare e quindi ci si lasciano dei buchi dei connettori dicendo io voglio usare la funzione OHFLog non c'è ma qualcuno ce la metterà e questo qualcuno è esattamente trinci quindi trinci grazie alla Wasm machine quando carica l'Wasm in memoria va a iniettare a caldo una serie di funzioni che l'Sdk ti propone che sono le funzioni per poter dialogare con il core e sono le funzioni di log di call e di salvataggio all'interno del database questo è un po' il concetto l'unica nota è sulla memoria sulla memoria c'è un giro abbastanza complesso ve lo sintetizzo la memoria in questo momento viene gestita ok viene gestita sia in lettura in scrittura dall'Wasm stesso ma anche dal core quindi voi sapete che disastri succedono che poi è quello che è successo alla NASA quando c'è commistione di memoria cioè due applicativi diversi che accedono alla stessa RAM il sistema operativo in genere non te lo permette però giocando un po' succede e su Windows succede la famosa schermata blu che qualcuno va a scrivere nella memoria di qualcun altro nella nostra tecnologia questo avviene comunemente perché il core può leggere e scrivere nella memoria dell'Wasm l'Wasm può leggere e scrivere nella memoria dell'Wasm c'è un journey particolare quando il core vuole scrivere dentro la memoria chiama una funzione di alloc questa cosa non l'ha fatta la NASA scusate non prova ad allocare la memoria lui perché se lui l'alloca la memoria il gestore di Wasm non sa che qualcuno sotto gli ha allocato la memoria quindi è prezioso che sia l'allocatore di Wasm che allochi la memoria quindi noi chiamiamo un allocatore gli diciamo allocami totbytes calcoliamo quanti bytes perché dobbiamo scrivere ciao quindi prendiamo ciao lo trasformiamo in message pack sappiamo quanti sono i bytes da allocare chiediamo all'allocatore interno di riservarci quello spazio di memoria poi scriviamo dentro questa memoria ciao in message pack e chiamiamo un metodo dentro dicendo prenditi i dati da un inizio più un offset e quindi poi è l'Wasm che arriva nella memoria su quel puntatore e su quell'offset e si riprende i bytes tramite message pack se le riconverte di nuovo nel dato originale e questo è il metodo con cui noi si entra e si esce nella memoria normalmente chi scrive gli smart contract questa cosa se la deve solo ricordare non deve tutte le volte pensare oddio devo scrivere nella memoria perché abbiamo degli sdk che lo fanno al posto vostro però è importante sapere che questi sdk fanno un grosso lavoro che se qualcuno bypassa buona fortuna perché noi ci siamo trovati spesso si fanno i corsi si fa il primo smart contract return true si rompe lo smart contract ma come non torna true true non esiste ho 0 o 1 se vuoi tornare true in message pack true è quadra 198 ci devi scrivere quadra 198 non c'è voglia di scrivere quadra 198 chiami in host function gli dici mi traduci true in message pack ecco questo journey se non si capisce quando si prova a far tornare a una funzione qualche cosa come una stringa si rompe ma non perché non siamo stati capaci a non farla rompe perché il processo della memoria è un processo molto delicato ho saltato velocemente una cosa ma è molto importante che questa cosa si sappia però la dico ora in modo tale da non da non caricarvi di aspettativa all'inizio voi che lavorate nel mondo della blockchain sapete o se non lo sapete potreste batterci la testa involontariamente ci sono alcune cose che non si possono fare proprio a livello di principio queste cose che non si possono fare non è buonsenso ma è una cosa sistematica come si dice uno in particolare è l'utilizzo di numeri random il salvataggio di numeri random in sistemi distribuiti perché non si può fare un salvataggio di numeri random in sistemi distribuiti perché se io ho tre nodi e tutti questi tre nodi eseguono contemporaneamente questo algoritmo quindi dichiaro una variabile ci pianto un numero random e lo salvo nel database alla fine del salvataggio io avrò tre database completamente diversi quindi non si non si dovrebbe usare numeri random all'interno della delle tecnologie distribuite questo è uno dei motivi ve l'ho anticipato all'inizio ma ora ci si arriva del perché molte tecnologie essi sono scritti in un loro linguaggio di programmazione proprio per garantire che questi fenomeni non potessero rompere la funzionalità perché poi vale a spiegare a uno sviluppatore che non è che ha fatto una cosa che non doveva fare le industrie non ti possono dire usa l'iphone ma attento non premere a lungo il bottone no non te lo possono dire o non te lo fanno premere levano il bottone perché poi le persone se fanno se scrivono random su ethereum che ti è impedito perché il linguaggio ti impedisce di scrivere random ma se te lo consentisse una transazione su ethereum con random crea uno spiccino di nodi come aveva aperto un alveare ognuno va per conto suo non si realinano più quindi te lo impediscono sul nascere un'altra cosa che non si deve fare è l'utilizzo dei numeri a virgola mobile perché non si dovrebbe fare l'utilizzo dei numeri a virgola no molti lo fanno fare per esempio Hyperledger Fabric non c'ha nessun problema a far utilizzare i numeri a virgola mobile però quando si utilizza i numeri a virgola mobile per chi ha una formazione profonda che viene dall'assembly i numeri a virgola mobile sono trattati dai processori e i processori hanno ognuno un loro modo di trattare i numeri a virgola mobile quindi un i7 e un m1 hanno due modi diversi di trattare i numeri a virgola mobile questo significa che i 17 tredicesimi se fatto su un mac o su un computer windows può dare due risultati diversi sono risultati diversi per l'ultima cifra forse per l'arrotondamento ma non c'è certezza assoluta che questi siano uguali poi invece esistono dei trucchi che sono portare dentro la tecnologia una libreria di numeri a virgola mobile ma è come sovra ingegnerizzare il sistema cioè ho un processore che fa i calcoli e devo chiedere a un algoritmo di fare i calcoli cioè noi le 1000 transazioni al secondo ce le saremmo scordate al tavolino quindi tecnicamente una delle cose che non si dovrebbe fare e noi lo impediamo durante la compilazione è l'utilizzo di numeri a virgola mobile solo interi questo perché altrimenti si rischia di non avere le performance so che spaventa come cosa ma per chi conosce un po' di basi matematiche si riesce a fare tranquillamente tutto con numeri interi anche perché a basso livello non esistono numeri numeri diciamo che diversi dallo 0 e dall'1 quindi poi l'algoritmo le cose che scrivete si possono anche banalmente le disequazioni cosa è maggiore cosa è minore un sort è molto comodo e facile farlo con numeri interi però questo aspetto sui numeri a virgola mobile e sui random è stato quello che in molte tecnologie li ha costretti come dicevo a scriversi un loro linguaggio noi abbiamo risolto questo problema il virgola mobile non l'abbiamo risolto nel senso che lo potevamo risolvere con una dichiarazione dicendo il nodo trinci funziona solo su questi processori a chi siamo noi per fare una cosa del genere diciamo non si fa quando compili se il numero non è se è a virgola mobile ti si impedisce la compilazione durante se uno prova a forzare la compilazione e invia l'ASM c'è un controllo interno all'ASM che verifica che se c'è un numero a virgola mobile ti scarta la cosa lo fanno anche tanti e Polkadot fa la stessa cosa e detto questo esistono anche alcune cose nascoste su numeri a virgola mobile e su numeri random come le hash map che ci siamo resi conto che internamente usavano numeri random quindi anche lì tempo per correggere tutto questo però alla fine ce l'abbiamo fatta e una cosa che abbiamo fatto sulla gestione del random è una pubblicazione scientifica che stiamo ultimando che è uno simolo veramente particolare che è il DRAND cioè un random deterministico random deterministico sembra una cosa controintuitiva in realtà noi avevamo la necessità che quando un nodo in un particolare momento non temporale perché la gestione del tempo non ce l'abbiamo ma potremmo stare per chi ci ha voglia una settimana a parlare del tempo di trinci su trinci non esiste un arco temporale che ha un filo logico quindi c'è un suo universo di tempo meraviglioso dentro comunque al di là di questo escluso il concetto di tempo noi avevamo bisogno che due nodi che eseguivano a modo loro due numeri random in due parti del mondo diverse ottenessero esattamente lo stesso numero random pur non comunicando tra di loro per gli appassionati di fisica questa cosa si chiama entanglement e noi abbiamo prodotto un algoritmo di entanglement all'interno del sistema che permette di fatto di costruire in un determinato contesto quindi a partire dalle medesime condizioni esattamente col numero random ma questa sarebbe banale perché basta fare l'esce di qualcosa e quello ce l'hai come seed ma di avere l'imprevedibilità di quale sarà il prossimo numero random questa è la cosa preziosa perché noi utilizziamo i numeri random all'interno del sistema trinci per distribuire profitti nel mining quindi se io avessi la possibilità di prevedere quale sarà il prossimo numero random a partire dal precedente cosa per esempio che su algorand è una banalità da fare che algorand nasce con un seed che se lo porta avanti quindi diciamo non viene usata magari come si usa noi in maniera spinta per distribuire i profitti però se uno lo utilizzasse per distribuire i profitti si può facilmente prevedere dato un certo numero random ora quale sarà il prossimo numero random quindi questo è una funzione a disposizione per gli smart contract che se hanno bisogno di tirare una moneta la possono tirare tranquillamente e hai la garanzia che tutti i nodi quando tireranno quella moneta la cosa funziona arriviamo velocemente al proof of play che è chi conosce Raft come algoritmo di consenso ho fatto un mito da parte di un blockchainista cripto talebano come qualcuno mi definisce quando si parla che nelle blockchain si deve trovare l'accordo per validare il blocco in realtà la cosa è un pochino meno meno prosaica bisogna trovare chi produce il blocco bisogna eleggere qualcuno cioè in qualunque sistema di blockchain o di sistema distribuito si va non c'è l'accordo in quello che si fa ma c'è l'accordo nell'eleggere un leader che prende una decisione questo è un aspetto tecnologico molto efficiente poi se uno vuole fare la votazione come fa per esempio Raft ed altri lì si spende molto più tempo però se uno vuole lavorare nell'efficienza l'efficienza è sempre trovare un leader che decide al posto di tutti in bitcoin questa elezione del leader avviene tramite la proof of work è molto più comodo eleggere un leader che decide piuttosto che votare decisioni di tanti proprio a livello tecnico Raft non è un algoritmo utilizzato nei sistemi di blockchain pubblica però è stata la fortuna di Apple Angel Fabric perché quando è passata a Raft come modello diciamo di algoritmo di consenso in realtà ha avuto un salto di performance incredibile ma è una blockchain privata cioè voi lo sapete meglio di me cos'è una blockchain privata è una un software installato probabilmente in una VPN controllata da n persone il cui unico scopo è tenersi sincronizzati non è una blockchain quindi non è che si fa una distinzione come fanno i politologi o i criptomaniaci quelle blockchain quell'altro no è tutto blockchain però un sistema chiuso controllato da 5 persone è un sistema distribuito che poi dentro uno ci metta qualunque cosa e lì in quel caso ti spingi perché siccome li controlli i nodi a avere la massima performance oggi è la blockchain più usata del mondo è Hyperledger Fabric usata in contesti privati in ospedali sono reti ospedaliere negli Stati Uniti specialmente che hanno tutta l'infrastruttura di Hyperledger Fabric ma c'è una governance di questi nodi bitcoin ethereum ethereum un po' meno bitcoin non c'è una governance vera e propria per cui tecnicamente ci può essere sia la necessità di far funzionare qualcosa e quindi raft potrebbe andar bene ma non ci dimentichiamo il problema della cyber security cioè ci deve essere anche l'impossibilità di frodare il sistema e con raft raft banalmente si froda a tavolino nel sistema perché raft si basa su un concetto di autodarsi delle regole in particolare su raft ogni nodo dice io decido di aspettare 30.000 secondi lui decide di aspettare randomicamente un altro tempo su chi primo vince primo parte a fare il blocco però chiaramente se io metto all'interno di un sistema un nodo che non rispetta queste regole e parte subito a fare il blocco questa cosa non salta il meccanismo diciamo del sistema di raft la proof of play eredita in parte il sistema di raft ovvero ci sono dei nodi che in maniera randomicamente deterministica si creano un tempo di distanza qui ho messo una foto di una corsa questi sono i 400 metri ma se vi immaginate se questi fossero i 100 metri ci sarebbe il primo che ha un vantaggio maggiore rispetto all'ultimo beh questo è quello che succede su pop ovvero il sistema data un elenco di validatori in maniera randomica elegge un validatore siccome è un DRAND tutti i nodi in quel momento leggono il validatore 1 tutti in maniera deterministica e quindi ci si aspetta che il numero 1 sia quello che produce il blocco però non possiamo sapere se il numero 1 è offline perché se fosse offline tutti rimarrebbero appesi per l'eternità aspettare che il numero 1 manda un blocco in realtà il numero 1 è quello che si prende un vantaggio maggiore quando si calcola in maniera deterministica il tempo lo si calcola per tutti i validatori per cui non è possibile che qualcuno all'interno si prenda gioco dell'algoritmo perché se io sono un nodo e mi arriva un blocco da parte del nono io lo so che il nono me l'avrebbe dovuto mandare tra 4 secondi se mi arriva dopo 1 io lo scarto quindi ci sono meccanismi difensivi nei confronti dei nodi per gestire l'attacco bizantino detto questo nel proof of play viene letto in maniera randomica un nodo di validazione questo nodo produce il blocco e lo propaga a tutti gli altri quando gli altri nodi sono sulla griglia di partenza perché se non arriva il nodo scatta il prossimo scatta il prossimo fin tanto che qualcuno non produce il blocco e tecnicamente se cominciano ad arrivare i blocchi questo gioco di corsa si ferma e si comincia a votare i blocchi che ci sono come mai questa sofisticazione perché da una parte se tutti rispettano cioè se tutti sono online non c'è attesa del tempo di blocco quindi non è come bitcoin che si attendono 10 minuti se c'è una forte presenza di validatori viene eletto randomicamente ogni volta qualcuno e noi si chiudono mille transazioni al secondo se invece quel validatore in maniera randomica non viene eletto c'ha tre possibilità cioè se non viene eletto e non risponde nel suo tempo c'ha tre possibilità di ripresentarsi alla terza viene tagliato fuori dalla lista dopodiché deve rifare un'operazione per rientrare all'interno come validatore ma se lui non viene eletto scatta il secondo scattando il secondo non importa se il secondo c'è o non c'è se non c'è parte il terzo parte il quarto ci sarà un tempo magari può arrivare anche a 10 secondi per cercare di trovare una validazione ma quello che conta che poi dà il nome a proof of play è che il primo che doveva esserci non ha risposta all'appello quindi quando quel blocco verrà chiuso e verranno distribuiti i profitti del blocco come per il mining lui verrà escluso a tavolino dai profitti quindi se io sono un minatore e non partecipo io non guadagno perché non rispondo agli appelli alla terza volta sono buttato fuori quindi o faccio play e sto e mino quindi sono presente ogni volta che viene richiesto il mio apporto cioè crea un blocco perché il blocco scusate il gioco di parole sblocca l'andamento delle transazioni se nessuno lo produce la rete è congelata se io faccio il mio mestiere io guadagno se io invece metto in stake le mie monete come su ethereum 2 ma poi io non mino io non ho nessun profitto da questo perché all'appello non rispondo e quindi salto i vantaggi del pop sono che è full tolerance altissima velocità meccanismo di mining non energivolo perché fondamentalmente non si produce quel gioco che vi ho volontariamente saltato all'inizio di come funziona la proof of work dove spero che tutti voi conosciate e se non lo conoscete è abbastanza facile trovare documentazione su perché si fa proof of work io a volte vi parlo di alcuni aspetti che per molti sono teoria o cose viste su libri ma nel nostro caso che noi viviamo con tutte le scarpe come si dice nel contesto blockchain per molti a volte un termine vale un altro è un modo per parlare è un modo per penarsi la bocca in realtà nel bitcoin è prezioso che ci sia questo consumo energivoro perché nel cap teorem la difesa nei confronti della consistenza viene fatta controbilanciando l'elevato costo che avrebbe qualcuno per danneggiare il sistema quindi sentir parlare di un lightning network o altri sistemi che dicono ma abbassiamo le emissioni energetiche di bitcoin si può abbassare le emissioni energetiche ma dagli un altro nome crea un'altra cosa perché quello è è fatto così cioè è una macchina blindata che però per farla andare più veloce gli arriviamo vetri cioè è inutile averla blindata cioè quel sistema funziona perché è fatto così non perché non ci sono esperti che non ci sanno mettere le mani e non sono capaci di abbassare da 10 minuti a 5 minuti perché quel costo energivoro è prezioso per l'algoritmo noi abbiamo scritto un algoritmo non energivoro i nostri nodi che non abbiamo portato bravo i nostri nodi sono poco più grandi di un raspberry sono nodi di categoria industriale finiscono dentro i tier 3 quindi sono certificati sono piccoli così consumano 15 watt non sono energivori eppure fanno mining perché non fanno challenge di dimostrare di avere più potenza di calcolo rispetto a qualcun altro non serve serve solo rimanere presente e fare il suo sporco lavoro chiudere un blocco alla velocità più alta possibile se non lo fai non viene remunerato hai solo quel piccolo costo della corrente questo chiaramente questo piccolo costo in realtà inficia anche sul costo delle transazioni oggi si parla di polygon che non costa le cose che non costano a mio avviso o è una trovata pubblicitaria o c'hanno una vita contata o comunque vada come nel polygon c'è un modello che poi piano piano comincia a costare però tecnicamente per tenere bassi i prezzi spesso bisogna lavorare per tenere bassi i costi a parità di qualità quindi se io minando bitcoin consumo 5.000 euro al mese di corrente io non posso pensare che quella transazione sia economica perché quel poveretto che paga la transazione deve pagare tutti i nodi che hanno inutilmente speso corrente nella speranza di vincere quel blocco lì creare un algoritmo non energivoro significa creare un algoritmo completamente diverso che nel nostro caso si chiama POP che ha diciamo ormai un annetto di vita non ha mai dato problemi i primi fix sono stati necessari ma abbiamo messo abbiamo corretto come tutti i prototipi che si mettono sul mercato quello che c'era da correggere e oggi rappresenta al nostro avviso un'alternativa green ma non perché perché la parola green è importante ma semplicemente perché non non si può partire col piede sbagliato noi abbiamo avuto l'ambizione e vi giuro tantissimi tutti ci hanno scoraggiato da creare l'ennesima blockchain perché eravamo i piccoli fra i giganti se parti anche col piede sbagliato santo Dio cioè abbiamo cercato di partire da alcuni aspetti fondamentali la parte compliance la parte legal dove non mi ci sono soffermato ma ci possiamo tornare se vi interessa quindi tutto l'ecosistema per permettere un'azienda di andare in blockchain senza avere problemi legali la parte energivora cioè la parte energivora era come dire un aspetto non trascurabile danno e mezzo di lavoro però si è tirato fuori pop velocemente arriviamo alla parte di smart contract cos'è lo smart contract? la smart contract è l'intelligenza di un wallet ci piace definirlo così o se vogliamo parlare da nerd terra a terra lo smart contract è quella parte algoritmica che va ad alterare i dati di un database in una porzione permessa non ci piace è brutto è crudo come definizione però è così cioè un grande database che ha tanti dati uno smart contract per definizione non per volontà ha accesso a una zona riservata di dati e li può alterare questo è come si altera il dato? intanto bisogna vedere come si arriva ad alterare il dato l'unico modo per alterare il dato sono creare transazioni le transazioni c'è un esempio più avanti eccola qua cos'è una transazione? una transazione questi tra l'altro sono le ephemeral transaction sono transazioni finte come la latta che però sono preziose nel ciclo di test dell'applicativo ci torneremo dopo se il tempo me lo consente una transazione ora qui è scritta in javascript ma in realtà insomma altri sdk la scrivo in un altro modo io ho un target il target è l'indirizzo del wallet a cui voglio mandare la mia transazione che come abbiamo visto nel database di prima non è altro che l'applicativo che sottostà a quel wallet lì quindi l'euro no? è un un wasm identificando target identifico esattamente quel wallet ma che normalmente dentro dovrebbe avere un applicativo installato contract è l'hash dello smart contract che dovrebbe avere questa cosa può essere usata in due modi o mettendo un cast cioè nel senso io voglio assicurarmi che la transazione vada ad euro purché su euro ci hai installato questo smart contract quindi se io questo parametro è opzionale ma se lo metto voglio la garanzia che quel wallet sia esattamente quello che mi viene detto poi ho un metodo e ho gli argomenti e ho colui che firma la transazione questa è la forma della transazione ora per voi che lavorate in blockchain sapete che in blockchain si gioca con chiavi pubbliche e private noi abbiamo creato le ephemeral transactions perché abbiamo creato un simulatore di trinch in RAM scritto in typescript ovvero la possibilità di fare uno smart contract e di infilarlo nelle unit test cosa che a livello enterprise a nostro avviso è molto importante quindi mentre oggi su ethereum scrivere uno smart contract testarlo creare una unit test su ethereum si fa però magari voi lo fate tutti è una cosa complicatissima se non usare i libri di terze parti accrocchi sistemi dockerizzazioni che vengono fatte parte al volo creare una unit test di uno smart contract su ethereum a mio avviso è qualcosa di complicatissimo per non parlare di altre altre tecnologie di bitcoin non ce l'ha però esistono delle delle reti che supportano smart contract con bitcoin tecnicamente questa parte è molto riservata agli sviluppatori perché riescono in maniera molto semplice lo vedremo in pochi istanti a scrivere uno smart contract testarlo in un simulatore che gira in ram io posso istanziare mille nodi per fare mille unit test paralleli questi nodi hanno un inizio una fine muoiono in ram e non mi trovo come per esempio su ethereum che io posso fare un test sulla testnet ma questo test mi altera la testnet cioè se io faccio un esempio voglio voglio testare la funzione di inizializzazione e la funzione c'ha se è inizializzato rifiuta la transazione altrimenti falla beh io il primo test se mi passa quello è inizializzato non posso più tornare indietro perché su blockchain non si torna indietro i dati sono scritti indelebili grazie a questa tecnologia che questi sono le ephemeral transaction si possono costruire in ram dei casi degli scenari e questi scenari vengono buttati via subito dopo il test quindi posso inizializzare infinite volte e ripartire sempre da un contesto quindi questa è la forma di una transazione una transazione c'ha un appunto un wallet di destinazione un hash opzionale perché se ce l'ha si è già battezzato come si dice noi non c'è bisogno di rimandarglielo a meno che non si voglia la conferma che quel hash già è scritto il metodo che voglio invocare e gli argomenti che voglio inviare gli argomenti in questa transazione vengono fatti come oggetti classici ma in realtà poi la T2Lib che è lo strumento che si utilizza non nelle ephemeral transaction ma nel real transaction converte questi argomenti in byte array tramite message pack arriviamo al signer voi sapete che come dicevo nella blockchain si gioca sempre con chiavi pubbliche e private noi dai primi momenti ci siamo resi conto che uno dei migliori modi per ammattire era testare uno smart contact con chiavi pubbliche e private cioè il modo più facile per andare a essere recuperati subito senza passare dal video perché? perché dovevi simulare che George dava i soldi a Michael e che Michael poi le mandava a lui per cui creati tutti i wallet tutti gli account cioè alla fine te quando avevi preparato il test era passato due ore e ti hai riscordato quello che dovevi fare nell'ephemeral transaction quello che facciamo noi è aver creato un sistema di firma molto semplice ma efficace ovvero la chiave pubblica coincide con la chiave privata sembra una stupidaggine però questo ti permette di inventarti degli account mnemonici signer account non è una chiave pubblica pazienza ma esiste la chiave privata per questa chiave pubblica che si chiama signer account ID quindi in questo modo creando infatti è stata chiamata signer e non signature colui che firma in realtà mi mi viene validata dalla tecnologia trinci di simulazione questa firma che in produzione però devo usare l'account ID di lui e la sua chiave privata però questo rende molto facile fare i test per fare i test io qui vi presento la l'SDK in javascript detto questo noi si usa Jest per fare le unit test e Jest ti porta in pancia il nodo lo avvia ci pianta dentro le transazioni effimere vedi quello che succede e passa e passa la paura queste cose le cito poi vi verranno mandati i link se siete interessati ci abbiamo tutta la repository di GitHub con i vari blockchain in manca in fondo il corpo in colla è saltato piattaforma di formazione abbiamo una serie di centri di competenza abbiamo una serie di partner gruppo ad eco sicuramente conoscete noi siamo la linea di blockchain del gruppo ad eco quindi una linea di formazione e poi su altri soggetti inizialmente facevamo formazione noi ora non ce lo possiamo più permettere non abbiamo più né tempo e energia e dobbiamo dedicarci a questo bimbo che sta prendendo diciamo il volo e di poter fare progetti formazione cioè si fa in questi contesti in cui dobbiamo farci conoscere per fare altre cose ma lungi da noi andare magari a fare un corso di formazione a una a una piccola azienda e ci pensano appunto i grandi gruppi il gruppo ad eco in su o se rientrassi nella vostra linea di business allora in quel caso si tratterebbe di formare i formatori non di formare l'azienda poi abbiamo un exchange abbiamo detto all'inizio questo exchange è sincrono dentro ci sono sia monete nostre quindi scritte all'interno della tecnologia blockchain trinci sia bitcoin perché abbiamo dei bridge molto complessi tanto da permettere di utilizzare monete crittografiche come bitcoin ethereum doge e quant'altro come sistemi di pagamento sui post abbiamo presentato la settimana scorsa al Zerona di pagamenti tutta la tecnologia e tramite sincroni tramite trinci tramite tutto l'ecosistema è molto facile usando strumenti giusti arrivare a pagare un caffè con qualunque criptomoneta così abbiamo un sistema di wallet riservati hot wallet e i tempi il nostro brevetto tra virgolette sta sul gestire i tempi di trasporto perché io faccio una transazione devo pagare il caffè il bitcoin magari ci mette anche sei ore per fare la transazione se metto le fees basse e quindi devo staccare l'utente e mandarlo via al ristorante e non farlo rimanere così con una cosa a mano noi abbiamo tutto un ecosistema che costruisce una garanzia sul fatto che quella transazione poi venga fatta se non viene fatta si attivano delle policy e delle tecnologie particolari comunque questo è il nostro exchange quindi stiamo pubblicando anche questi giorni altre monete sono la maggior parte tutte monete che nascono su tecnologia al di là delle grandi come si dice di bitcoin e quant'altro però lo scopo di creare una moneta è molto interessante perché si possono creare stable coin e unstable coin è brutta la parola unstable coin però diciamo stable coin significa che noi abbiamo degli accordi internazionali con delle banche internazionali per cui abbiamo dei conti di escrow che noi non possiamo toccare e la cosa meravigliosa lo posso dire con grande soddisfazione è che noi non operiamo in quei conti non opera neanche la banca ma loro hanno integrato trinci cioè fondamentalmente spostare i fondi da quella banca significa che loro producono transazioni sulla catena quindi è la banca che produce la transazione sposta noi abbiamo cancelletto EURS che è l'avatar digitale dei soldi che realmente stanno all'interno di questi conti se questi si spostano loro allineano i loro spostamenti e quando qualcuno vuole fare lo scarico quindi riavere gli euro indietro è la banca stessa noi per esempio come affidati non abbiamo la chiave per fare questo che va a bruciare la moneta appartenente a quello che ha fatto lo scarico e poi eroga il bonifico dal suo conto corrente personale quindi le persone che utilizzano questa tecnologia possono avere un proprio conto corrente per gestire sia vero eh non virtual IBAN per gestire sia cripto che non cripto io un altro quarto d'ora me lo prendo faccio una domanda vai vai quando dici n coin o comunque asset che in questo momento sono stati depogliati sulla vostra blockchain oltre a questo esempio che facevi ci facevi della banca che di fatto ha creato una sorta di stablecoin per consentire il pagamento puoi fare qualche altro esempio giusto per capire il mercato e altri player stanchi che hanno già fatto questo percorso assolutamente ok utilizzo la tecnologia per depogliare degli asset non li chiamo cripto no ma cripto asset ha senso perché cripto è vabbè comunque ci siamo capiti giusto se ci puoi fare qualche esempio in modo tale che ci può nascere qualcosa rispetto a quello che stiamo allora la cosa più importante che posso provare a trasferirvi è che noi tutti siamo stati abituati che il concetto di moneta è qualche cosa di assodato cioè la moneta è qualcosa che si sposta da me a te tramite qualcuno che lo fa in realtà questo è l'esempio che abbiamo tutti noi con le monete digitali l'euro ormai è una moneta digitale ma in realtà la moneta può fare molto di più può fare veramente molto di più se ben istruita cosa significa istruire una moneta significa creare una moneta programmabile creare una moneta che ha delle regole in pancia che non dipendono più da chi opera sopra ma dipendono dalla moneta stessa cioè io posso creare un token per esempio che il mercoledì non si sposta stupida come cosa vabbè ma creando questa regola nella moneta non è la banca che non ha che si impegna a non spostare i fondi mercoledì è il token che non si sposta creando queste regole potendo andare agire su queste regole qui si entra nel modello di business delle aziende cioè le aziende spesso hanno dei modelli di business che devono cercare di fargli far scopa con il modello finanziario se io faccio un contratto con un fornitore e gli dico per ogni corso che mi vendi ti riconosco il 10% colui che deve beneficiare del 10% deve fidarsi di quello che gli dice il principale quanti corsi le ha venduti oppure deve entrare nella contabilità per vedere quanti corsi sono stati venduti io posso costruire un token che si sposta nei wallet delle persone interessate indipendentemente da andare a controllare e fare per esempio quello che fanno come banca di compensazione camera di compensazione a fine anno quindi posso creare una moneta ma l'esempio più spicciolo che si splitta immediatamente su due wallet quindi creo un conto unico mando un pagamento e questo si divide oppure posso fare un conto di escro quello che noi facciamo spesso ovvero io compro Davide giusto? Diego la dicher io vendo questo questo prodotto a Diego Diego mi deve dare dei soldi chi parte per primo? io do il prodotto Diego mi manda soldi per fare l'operazione contestuale serve un terzo di cui io e te ci fidiamo io do il computer al terzo te dai i soldi al terzo lui fa lo scambio e si riguarda e così funziona il mondo non è che siamo inventati niente per togliere di mezzo questo terzo bisogna fare un'operazione in blockchain quindi bisogna che il sistema si sposti contestualmente al pagamento quindi nascono quelli che noi chiamiamo gli NFV il not fungible wallet che è una derivazione degli NFT a Luca Comics abbiamo presentato un'asta di NFT molto importante in cui hanno diciamo i 4 NFT vincenti saranno poi i loghi del prossimo anno del Luca Comics il paradosso è che io non vado a pagare lui io vado a pagare l'oggetto cioè noi abbiamo fatto una foto quindi una foto è asciabile come si dice in italiano bruttissimo cancelletto esce di quella foto è l'wallet di quella foto lì l'wallet di quella foto ha una regola che sono questi smart contract e la regola è questa ho un proprietario iniziale lo scrivo nel campo data come abbiamo visto prima e se la foto riceve fondi se l'wallet della foto riceve fondi può decidere secondo un algoritmo cosa fare di questi fondi quindi banalmente io sono il proprietario decido di vendere la mia foto a 1000 euro mi arrivano a 990 euro la foto i soldi li respinge la foto i soldi li respinge non il proprietario la foto respingendo i fondi i fondi tornano a me io mando 1100 euro alla foto la foto dice ok sono di più di quanto mi avevano detto di essere venduta cosa ci fa la foto con soldi apparentemente nulla quindi prende i soldi li dà al vecchio proprietario e scrive dentro se stesso chi è il nuovo proprietario questa è un'asta per acquistare beni digitali raccontata nella maniera più stupida del mondo una regola nella pancia della foto che permette di gestire gli asset sulla base di regole indotte dall'esterno ma la cosa che cambia è che io non do più soldi a lui e lui poi per cortesia mi cambia l'intestatario della foto io do soldi alla foto ecco perché abbiamo dovuto fare un'anagrafe più grande perché abbiamo dovuto ospitare non solo umani ma anche oggetti solace account foto qualsiasi cosa io sono in grado di produrre un wallet per un computer per una sedia per un lotto e per un pdf abbiamo fatto wallet come esce di pdf che contengono un contratto fra due persone e dentro il contratto del pdf c'è scritto le regole quindi l'esce di quelle regole del pdf hanno determinato l'esce di un wallet un wallet se qualcuno cambia la regola del pdf scrivendo i soldi che le do a fine mese o a fine anno l'esce è diverso l'uollet non è più lo stesso viene invalidato completamente prego quindi un esempio ora poi magari in pochi minuti facciamo uno smart contract se vuole veramente poco almeno si vede giusto un pa' di concetti creare monete programmabili è quello che oggi stanno facendo tutti i nostri player oggi utilizzano monete programmabili combinata allo stable coin infatti se andate sull'exchange ci sono molti stable coin perché nel caso per esempio di fundraising di una qualunque startup che ha in mente un progetto dicendo se raccolgo tot fondi io mi impegno a fare questo quindi quello che viene chiamato crowdfunding si può fare con la tecnologia blockchain quindi io metto sul mercato degli stable coin quindi Luca compra lo stable coin di quell'azienda lì però lo stable coin non aumenta di valore lo stable coin non lo posso comprare come investimento ma lo tengo come riserva di valore modalità escro fin tanto che poi l'azienda non dimostra di aver raggiunto gli obiettivi che aveva detto di raggiungere se li raggiunge allora io poi utilizzo i miei stable coin per comprare le azioni di quell'azienda e quindi ecco che si passa da coin a token l'azienda diventa possessore a questo punto dei token che le va a redimere e prende l'euro i token che vengono prodotti vengono usati come gettoni all'interno del sistema dell'azienda abbiamo Evodef se voi andate lo vedete è un'applicazione per per far parlare i sordomuti durante le durante le call è un sistema di intelligenza artificiale con l'app riconosce le mani riconosce il linguaggio dei gesti e sulla base di questo con vari plugin su google meet e quant'altro si riesce a far parlare una persona udente e un non udente perché quello che parla dall'altra parte l'app gli fa il linguaggio dei segni lui risponde con il linguaggio dei segni e un text to speech traduce in le varie lingue del mondo quello che ha fatto il progetto a mio avviso molto bello poi la tecnologia sotto è solida l'abbiamo vista valutata loro hanno fatto questa operazione hanno tokenizzato l'azienda e hanno fatto sì che poi coloro che compravano il token avevano dei vantaggi nell'acquisto delle licenze per cui fondamentalmente i sordi hanno finanziato questo progetto perché poi con questi token compreranno questa licenza ma c'è lo stablecoin di mezzo quindi se tante volte questa azienda non avesse portato a compimento quell'operazione loro potevano dire abbiamo scherzato riprendiamoci i nostri soldi quindi questo è un ulteriore garanzia con le DAO perché loro hanno una community loro mettono a votazione quello che viene fatto e se a seconda delle regole della votazione della community tutto in blockchain gli smart contract riconoscono il superamento della barriera e erogano i fondi una cosa che non ho detto veloce il tempo è veramente non voglio rubarvi troppo ma un importante lavoro non l'abbiamo fatto nel mondo dei voti noi abbiamo un algoritmo molto particolare di votazione anonima che chi è per caso cascato per il bagno nel mondo della votazione anonima ci sono degli aspetti abbastanza complessi da gestire quasi dei circoli viziosi perché se il voto è totalmente infatti si parla di voto pseudo anonimo perché se il voto è totalmente anonimo significa che io posso votare più volte perché tanto non mi riconosci perché il voto è anonimo o addirittura che può votare qualcuno che non fa parte degli eventi diritto al voto quindi il voto anonimo sulla carta non esiste noi abbiamo costruito un sistema hardware e software e blockchain criptografico dove si riesce a fare una votazione anonima una votazione veramente anonima in cui il sistema non sa chi sei te ma tramite uno smart contract si sa che io posso avere una seconda identità c'è un chi è esperto di criptografia c'è la blind signature quindi una firma cieca si costruisce un meccanismo di firma cieca per cui poi è come se prendessi una busta di carta con la carta carbone mettessi dentro un foglio lo chiudo timbro io che timbro non vedo cosa sto timbrando la carta carbone mi trasferisce il timbro e dentro questo foglio con il timbro del validatore ci metto il mio voto a quel punto il validatore riconosce me che ho chiesto il timbro e solo una volta mi riconosce non può riconoscermi più volte mette un solo timbro per ogni persona che c'è e si dimostra matematicamente che soltanto gli eventi di diritto al voto hanno votato nessuno ha votato più di una volta ma non c'è modo di ricondurre il voto alla persona al netto di casi limiti che quelli però cioè tipo su due votanti uno vota uno no cioè quelli però sono casi limiti che sono al di fuori diciamo del contesto della cosa questa tecnologia la usiamo nelle DAO per far sì che poi la community possa decidere valutare il destino di fondi sulla base di prove che noi chiamiamo witness che vengono fornite per cui se sono credibili e la comunità li crede lo smart contact sblocca tipo gettoniera sblocca i fondi questi fondi vengono drenati nei wallet dell'azienda se non lo dimostra questi soldi dopo un certo tempo tornano indietro nelle tasche degli investitori capite che è un modello nuovo che sta piacendo molto agli investitori e alle start up che stanno usando questa tecnologia perché favorisce da una parte l'adozione di metodi nuovi e dall'altra è contro le truffe o gli scam di quelli che fanno una bella raccolta e poi mandano l'augurio a tutti questo è un po' il concetto se ci sono delle domande c'è una prima perché sulla questione della scalabilità diciamo cioè menzionare il fatto che alla fine un nodo può essere anche poco meno addirittura di un rasberry poco più poco più dai a parte ora dal punto di vista delle dimensioni cioè nel senso se trinci acquisti i volumi che ne so di un ethereum di torno un terra di blockchain dove non la mettiamo? allora ci sono tre livelli di nodi ci sono nodi validatori nodi non validatori nodi di servizio se te di mestiere vuoi fare il validatore i tre terra di nodi ti organizzi perché tu mestiere se non ti organizzi te puoi anche minare con raspberry ma nel momento in cui sei chiamata all'appello e non rispondi sei fuori ok tant'è vero che abbiamo una rete si chiama independent chain che è la rete dei minatori un collega è appena morto no scherzo no no tutte rete pubbliche e ci sono vari strati di rete noi le chiamiamo hdsb significa high density scoped blockchain cioè te puoi crearti faccio un esempio banale ma da nerd molto da nerd se noi prendiamo la console di videogioco la nintendo ho due figlie la nintendo switch ci gioco più che loro però la nintendo switch di per sé non è un gioco è una console poi la cartuccia che ti metti nel gioco dà vita a qualche cosa trinci funziona esattamente in questo modo trinci funziona come una console che ha bisogno di una cartuccia e questa cartuccia è il blocco di genesi il blocco di genesi a differenza di altri viene prodotto artificialmente da chi da chi decide di costruire una rete nuova costruirsi un blocco di genesi significa costruirsi un bootstrap un firmware di inizio l'hash di questo firmware identifica la chiave di offuscamento della crittografia dei dati quindi significa che se come ti chiami Francesco decide di farsi un hd sb si scrive un firmware molto facile e se lo compila il compilato ha un hash quello diventa la chiave segreta che offusca la comunicazione di rete però te sei autoreplicante quindi significa che se te vuoi diffondere la tua rete basta che dai il tuo ip e questo hash a qualcuno qualcuno si attacca a te si scarica tutta la configurazione ivi compreso il blocco di genesi e il nodo comincia a sincronizzarsi e il sistema si autoreplica questo significa che a differenza di polkadot che ha un anello a cui tante reti afferiscono qui ci sono tante reti sullo stesso piano che però come succede nel protocollo tcpp con la subnet mask c'è un possono tranquillamente viaggiare sullo stesso cavo elettrico reti di seme diverso ecco il seme nel nostro caso è l'hash del bootstrap e cosa c'è scritto dentro il bootstrap c'è scritto tutta la configurazione della rete quanti quanti sono quant'è il threshold del blocco quante transazioni massimo possono essere fatte per blocco quanto bisogna aspettare quali sono le regole con cui si accettano smart contract nuovi e quali sono le regole di governance della moneta interna della della cosa te ti puoi personalizzare queste regole e personalizzandole quando hai buildato oggi sto usando neologismi proprio di basso livello te hai inventato una tua rete che ha delle regole ben precise quindi se qualcuno poi si vuole attaccare a te te hai dato la via a un seme che poi non potrai più fermare perché se te ti tiri indietro in realtà ormai il sistema è partito torrent torrent funziona così io devo conoscere almeno qualcuno noi nel nostro caso abbiamo pubblicato quattro reti no anche quella di test è una rete a tutti gli effetti che ha regole diverse tra l'altro della della production e la regola è una regola cattiva però è necessaria ovvero non è che facciamo come i tiri che ogni tanto si spenge e si svuota che poi non l'hanno mai fatto e è diventato poi di fatto il posto in cui deployare applicativi di produzione ma quella regola che vi ho detto prima che un wallet quando viene battizzato con uno smart contract a vita avrà quella in testnet non esiste cioè chiunque ti può cambiare da sotto le scarpe lo smart contract questo è molto utile per esempio durante il ciclo di test perché io prendo un wallet lo chiamo cancelletto Luca ci prova a creare uno smart contract ce lo metto sopra non mi piace ce lo devo poter mettere un altro e non ho nessun controllo su chi può fare questa cosa e quindi questo ti rende di fatto non adatta la testnet a andare in un contesto produttivo però la testnet non è una rete particolare è la stessa rete di trinci che però ha una cartuccia con delle regole ben precise su come si gestiscono gli smart contract questa è una regola che è l'unica differenza tra la production però questa regola ha fatto un hash completamente diverso per cui non è possibile che transazioni per una rete vadano a finire sulla transazione di un'altra perché nelle transaction va specificato anche il network e se io produco mille euros per la rete di testnet non posso usare quella transazione in prod perché ha una network diversa quindi un hash diverso la rete ha associato un coin no quindi non ci sono delle fisi di transazioni nessun le fisi di transazioni fanno parte delle regole se volete metterle all'interno dei coin che fate nei nostri casi ci sono delle fisi ma non sono nella tecnologia sono negli smart contract che hanno costruito le monete quindi poi tecnicamente se te decidi di costruirti una rete un clone di poligon dove nessuno prende niente tutto a babbo morto come si dice se trovi tanti amici e colleghi che te la tirano su funziona non c'è una regola precablata nella tecnologia la regola sta esattamente in questa cartuccia di genesi che dà l'inizio ad una rete quindi a scopi di testa abbiamo degli anelli di aziende che tra di loro si sono fatti delle HDSB perfettamente gratuite se le usano tra di loro per scambiarsi i dati certificarli e quant'altro non c'è bisogno di un modello diversamente quando ci sono competizioni su questo aspetto siccome il costo della transazione ha un significato ben preciso io potrei fare uno smart contact e nessuno me lo vieta su Ethereum parlo dove dentro c'è un while true c'è qualcuno che mi vieta su Ethereum di fare un while true i soldi me lo vietano perché tecnicamente se io non metto sufficiente gas per pagare all'infinito questo while true il sistema non mi va avanti quindi il pagamento spesso non è solo un modello di business è anche un modo per attacchi direi esatto quindi tecnicamente se io voglio produrre una rete gratis in realtà so che sono sensibile a quell'attacco lì quindi è una scelta di configurazione esatto però magari una rete privata di un'azienda che si scambia come il consorzio del pecorino si scambiano dati tra di loro staranno attenti a fare gli smart contact in cui se usi un hyperledger beh poi decidere di settare il gas azzaro esatto però quelli sono i rischi allora la cosa ci siamo presi un po' un nome forte però vabbè era libero disse quello se voi andate su terminale fate npm create blockchain si avvia il ah io non so attaccata la rete però aspetto e si avvia la prima il primo wizard che vi permette di crearvi un diciamo una serie di cose all'interno del computer e vediamo velocemente cosa vi crea ok lui vi porta dentro quello che serve in particolare vi sta tirando giù un progetto di github dove c'è tutto l'SDK in assembly script noi siamo via studio code ma insomma funziona su qualsiasi cosa senza nessun problema è carino via studio code perché plugin di jest a mio avviso è uno dei migliori però allora dagli dagli un nome tuo poi tanto il carattere e quant'altro ti dice lui cosa può mettere e cosa no ok smart contact name description andiamo avanti versione autorname luca vignali autore email se non lo volete mettere non lo mettete tanto nessuno traccia niente vi servirà per il deploy eventualmente in testnet ora lui vi chiede se vuole se vi serve una coppia di chiavi per pubblicare lo smart contact molto probabilmente sì a meno che già non avete un wallet di aria poi vi chiede se volete scaricare il nodo di trinci e a quel punto classico npm run install run npm install a questo punto che cosa succede che lui vi ha solo tirato giù il boilerplate ancora non è stato installato nessun applicativo ma ci sono c'è il boilerplate minimo per iniziare a scrivere uno smart contract ok allora questa è la struttura del del progetto node e modules c'è perché ho fatto l'installazione dentro assembly c'è esattamente il vostro codice sorgente in particolare vi trovate un SDK precablata e un index TS andiamo a vedere subito l'index perché qui giusto un paio di cose molto importanti la prima parte certo abbiamo ragazzi l'hanno fatto zoomabile ok la prima parte è non toccare va bene cioè toccare ma insomma l'abbiamo lasciata lì a scopo dimostrativo cioè questo è quello che avviene all'interno del sistema ovvero espone esporta una funzione si chiama alloc quella che vi dicevo prima per gestire la memoria e lui va allocare nella ip gli passa un i32 qui cominciate a vedere il discorso il discorso degli interi anche se il file è .ts non è typescript è assembliescript questo è scritto dentro tsconfig però se assomiglia al typescript qui non si applica la politica del duck typing che si assomiglia a un'anatra stannazza come un'anatra è un'anatra qui assomiglia al typescript ma non è typescript questa è l'unica funzione che verrà eseguita dalla blockchain da trinci la funzione run infatti il method gli viene passato come testo quindi la funzione run va a cercare dentro l'applicativo se il metodo passato come nome esiste all'interno delle funzioni e questa è la logica se il metodo c'è allora va bene altrimenti se non c'è ritorna errore la cosa curiosa è che al di là di queste cose da non toccare ma da guardare poi c'è iscallable che fondamentalmente ti fa una sorta di pre-flight non so se avete confidenza con i sistemi rest a volte si fa un pre-volo per vedere se quel metodo esiste senza andarci a sbattere se poi non esiste questa iscallable ti dice se il metodo c'è oppure no però di per sé è una mappa torna uno zero se c'è questo è come si scrivono i metodi una regola che mi ci sono finito le corde vocali per cercare di farla imprimere a tutti è che tutti i metodi hanno questa firma tutti i metodi hanno questa firma ovvero un ctx che è il context che è il context di esecuzione della funzione che è di tipo sdk types app context poi vedremo cosa significa e gli argomenti sono sempre in byte array non è possibile avere argomenti diversi da byte array come ritorno c'è un wasmary result l'wasmary result non ho tempo di spiegarvelo ma vi posso dire che è una combinazione meccanica di due numeri U32 è un U64 ma in realtà è proprio la fusione meccanica di due numeri non è la somma proprio è U32 uno accanto all'altro in cui nella prima parte c'è l'indirizzo della memoria in cui pescare i dati nella seconda parte c'è l'offset quanto va a presa lunga quindi ecco perché non si torna true ecco perché non si fa così ok chiaro che io non la posso far tornare perché qui gli metto che ritorna un boolean e lo frego però in realtà poi mi si rompe quando lo vado a eseguire quindi la firma di tutte le funzioni che voi esponete deve contenere ctx e args questo lo vedete perché la run in realtà va a chiamare proprio la ctx e l'args cosa c'è scritto dentro la ctx dentro la ctx c'è scritto se voi andate a vedere cos'è un ctx dentro un ctx ctx c'è il caller la profondità il metodo la network l'origin e l'owner il caller è fondamentalmente chi ha firmato la transazione qual è l'account ID che dall'esterno ha firmato la transazione non solo siccome noi possiamo fare che uno smart contract chiama un altro smart contract nel momento in cui uno smart contract chiama un altro smart contract nel secondo smart contract il caller non è quello che ha firmato la transazione è l'account precedente che l'ha chiamato è l'origin quello che ha firmato la transazione che però coincide col caller al primo giro cioè l'origin non cambierà mai durante il passaggio da uno smart contract da un account all'altro depth è quanto sto andando profondo quindi se sono al primo se è la prima chiamata se è la prima chiamata che ha chiamato la seconda la terza la quarta method è la stringa del metodo che è stato invocato dalla transazione vi ricordate le new tx gli passo un metodo stringa la network mi sta dicendo su quale network giro io posso fare uno smart contract ed impedire di fatto che venga usato su una rete diversa dalla mia perché io ci pianto a dritto if network diversa da questa rispinge ritorno errore quindi questa è una cosa è una feature che abbiamo dovuto aggiungere in fondo perché molti hanno siccome lo smart contract è agnostico rispetto all'htsb io potrei prendere l'eurs e copiarmi l'wasm e portarlo dentro un'altra cosa un modo per impedire questo se c'è necessità è quello di mettere dentro lo smart contract il controllo ristretto della network per cui io mi faccio la mia te ti fai la tua rete i tuoi smart contract te le produci funzionano solo sulla tua forzando questa cosa se uno la porta fuori l'wasm formalmente va ma in realtà si blocca owner invece rappresenta colui a quale è stata inviata la transazione se voi vi ricordate velocemente come è fatto il database eccolo qua se account 1 crea una transazione di metodo test e la invia ad eurs eurs è l'owner cioè è l'wallet al quale è stata inviata la transazione account 1 che ha firmato è il caller ma anche l'origin al primo giro poi se questo smart contract poi decide di chiamare altro da lì parte la catena dell'origin quindi se io mi scrivo un primo metodo mi piace cancellare tutto e partire velocemente da capo tanto voglio fare solo un test semplice io mi scrivo un metodo lo chiamo ciao poi questa è una mappa la vedete per chi conosce javas che ho scontato sto facendo una set di una mappa questa cosa è preziosa perché per motivi di performance viene fatto un mango durante la compilazione cioè non ho la garanzia che i nomi delle variabili pre e post compilazione siano gli stessi quindi se io mi chiamassi questa function ciao post compilazione non ho nessuna garanzia che questa function si chiamerà ancora ciao se io invece mi faccio una mappa chiave valore ciao stringa e ciao funzione qualunque mangle possa essere fatto qualunque nome futuro verrà dato alla funzione ciao mi rimarrà sempre l'associazione della mappa quindi questa è una tecnica implementativa quindi mi faccio una funzione ciao che chiaramente si aspetta un ctx io ho messo underscore ctx perché potrei ignorarlo e almeno non mi dà errore lslint c'ho il ctx c'ho gli args e io voglio semplicemente loggare hello world poi si possono mettere eventi si può fare tante cose io mi loggo ciao e faccio return di true questo è il mio magico smart contract inutile completamente ctx infatti lo sto ignorando anzi vabbè io posso posso fare così command 9 ciao e qui gli faccio stampare per esempio il ctx punto caller così almeno mi stampa su quale chi è che ha firmato la transazione vabbè come la fate fa ciao sono caller chiamo tizio poi facciamo dollaro ctx punto owner così vediamo queste due variabili che sono le più utilizzate all'interno di tutto lo smart contract fatto questo io devo fare npm run as build per forza devo compilare e una volta compilato in condizioni normali prima si doveva prendere lo smart contract vandarlo in testnet ma noi con effetti speciali abbiamo creato un percorso di funzionamento completamente diverso c'è una cartella che si chiama test questa cartella che si chiama test c'ha all'interno una serie di test pre-costruiti e andiamo a cancellarli tutti tanto a noi ci interessa soltanto il primo e come dico spesso ai miei ragazzi solfeggiamo quello che succede nella nella cosa forse sicuramente ho mangiato troppo vediamo qui it boh vediamo io qui ho un path dove è stato compilato il mio WASM mi faccio un test method io vado a calcolare il path del 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 WASM e avvio un trinci node trinci node mi avvia in ram una copia perfetta della blockchain di trinci però è una copia particolare che funziona con le firme effimere che vi avevo detto prima dopodiché questo me lo commento non mi serve niente non mi serve niente dopodiché mi vado a calcolare qual è l'hash di questo di questo contratto che vuole dice che non esiste file build esiste se l'intel ha avuta mi vado a calcolare quello che è l'hash di questo di questo file dopodiché crea una prima transazione effimera e quindi mi scelgo un target arbitrario voglio voglio battezzare l'wallet cancelletto luca con questo smart contract e per farlo io devo invocare per forza un metodo che esiste qui dentro e questo metodo per esempio si chiama ciao quindi chiamo il metodo ciao gli args per ora non li guardo e lo vado a firmare come luca vignali che non esiste luca vignali come chiave ma queste sono le firme effimere quindi io posso giocare con nomi mnemonici e è come se il proprietario della chiave privata di luca vignali andasse a firmare il la firma poi chiaramente vado a sottomettere il la transazione al nodo quindi faccio run tx e poi vado a valutare se c'è stato un errore o meno nel caso in cui non c'è stato un errore io vado a printare il il database di cancelletto luca queste sono tutte utility che possono essere usate per per testare gli smart contract salvo faccio run ecco perché vi dico l'utile gesto che è molto è molto forte da questo punto di vista ecco qua che io mi trovo il mio log ciao luca vignali virgola cancelletto luca è esattamente questo log io ho loggato il ctx caller il caller quindi colui che ha firmato in questo caso colui che ha firmato risulta luca vignali e l'owner è esattamente il l'indirizzo luca poi ho chiesto al terminale di stamparmi a modo suo il database di trinci questo lo posso fare non solo lo posso stampare lo posso ispezionare posso fare delle query sopra ma in questo caso gli ho detto dimmi tutto quello che c'è dentro chiaramente siamo in un ambiente di test cioè non un ambiente di test scusate siamo in un ambiente confinato cioè questa blockchain ha iniziato a prendere vita qui questo è stato il suo primo vagito quindi l'unica cosa che è stata fatta è registrargli un un wasm invocare la transazione questo è quello che è successo ovvero io nel database trovo un luca cancelletto luca che ha questo smart contract e non ha nessun dato salvato all'interno punto se io voglio spingermi e per esempio battezzare come si dice in gergo questo questo account io posso far ricorso ad una funzione che si chiama owner db è un set di classi che fondamentalmente mi aiuta a scrivere nel database dell'owner per cui io posso posso scrivere owner db punto set uso generics quindi boolean vi devo dire settami come booleano la chiave init e ci scrivi true non solo io voglio vado a fare un controllo if se non è già settato quindi se la get di init chiaramente non serve la chiave se è già stato settato io voglio impedire che venga risettato due volte per cui io qui in questo caso ritorno un error in tutti gli altri casi lui la prima volta che mi viene chiamata questa funzione me la inizializza salva nel database che init true e quindi la volta dopo se richiamo di nuovo la stessa funzione lui mi dovrebbe rompere vediamo se dice il vero e bravo 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 la prima volta ecco che comincia a comparire i primi dati questo è questo database qui è il data db owner db rappresenta i dati che EURS sta scrivendo su se stesso non sono ancora questi e quello che ora voglio fare per esempio è lanciare di nuovo la stessa transazione la eseguo due volte la salvo nel result 1 e poi vado a valutare l'errore di result 1 non c'è bisogno di ricompilare lo smart contact è sempre quello quindi lui la prima volta mi dovrebbe dire che è tutto a posto la seconda volta ecco che lui mi pianta un errore perché ha salvato nel proprio kb store il fatto che lui è già stato inizializzato e io posso salvare nel kb store addirittura chi è stato colui che mi ha battezzato che diventa di fatto un admin del contratto vediamo velocemente come si creano monete e come si spostano le monete chiaramente per creare una moneta si fa la mitica mint quindi per mettere i soldi nelle account si utilizza const a nu io vado a minare i soldi in colui che mi chiama questa è la regola entriamo un secondo gli argomenti devo deserializzarli quindi io devo usare delle tecniche per deserializzare gli args gli dico che const units poi è registrato quindi se vi interessa sdk punto message pack punto deserialize internal type unit no av 64 di args u8 quindi mi vado a leggere quante unità voglio mintare e poi faccio a1 punto add units compilo giustamente non ho tornato un true è solo per darvi diciamo velocemente quello che dovrebbe essere no lo so ho fatto tardi quindi completo soltanto la mint per farvi vedere come si scrive poi nella nella parte di sotto io chiamo luca non c'è più bisogno che gli passi lo smart contact hash tanto già ce l'ha il metodo è mint e gli chiedo di mintarmi mille unità 10.000 unità quelle che sono firmato da luca vignali dopodichè ignoro l'errore vado avanti faccio prima aspetto che il nodo mi abbia eseguito la mia tx1 e oltre ai data vado a fare node.db punto print assets che è l'altra funzione che mi dà invece lo spaccato di tutte le di tutti gli asset presenti all'interno ecco qua vedete che quella di prima ha salvato true sotto c'è stata una mint vedete lo smart contact può scrivere in verticale quindi lo smart contact ha scritto mille qui dentro se io volessi spostarlo invece della mint posso togliere a luca e aggiungere a qualcun altro giocando con il ctx caller chi è che firma chi è che ha il diritto di minare si può creare un token dicendo che chi mi battezza è il mio proprietario il mio proprietario può mintare su tutti i wallet e soltanto il proprietario di un wallet può decidere di fare la transfer ecco che la transfer banalmente banalmente non la sto a scrivere tutta ma la transfer si fa così io nella transfer vado a prendere l'account di colui che firma quindi è lui il proprietario della firma ecco perché caller e a quel punto vado a fare una add qui magari la non sto a scrivere negli argomenti metterò anche a chi a lui farò non la add veramente ma farò la sub tra l'altro la sub non è un void quindi posso controllare se riesco a sottrarre fondi perché se vado in negativo lui la sub mi rompe e nel caso in cui sono riuscito a sottrarli li aggiungo a qualcun altro ecco che io ho fatto una transfer che toglie i soldi da uno li mette da un altro e queste regole vengono scritte poi diventano regole che funzionano indipendentemente dalla volontà di qualcuno perché questo smart contact tramite il peer to peer viene propagato sincronizzato questo conio comincia a esistere e le regole che stanno all'interno poi faranno sì che se colui che l'ha inventato il conio si tira indietro e spenge il nodo l'operazione è unstoppable nessuno può farci nulla grazie a tutti